Ciao Claudia, cosa fai? Ciao carissima, oggi presento alle mamme e papà il bellissimo trattore New Holland Autentica replica del fabbricante americano Si accende dal bottone centrale A due velocità, lenta e veloce Marcia avanti Marcia indietro Lo puoi portare con il pedale o con il telecomando La musica Se non vuoi il rimorchio lo togli e lo metti togliendo questo pezzo E le luci sono avanti e indietro Che altro vuoi? In che colori ce li abbiamo? Solamente il colore azzurro Il trattore New Holland Farmer Con una batteria da 12 volt Grazie Ciao ragazzi Ciao